I proprietari delle tre auto distrutte da rogo nella notte a Solofra, non hanno dubbi, l'incendio dei veicoli affermano che è stato provocato da un cortocircuito. I primi accettamenti seguiti dai tecnici dei figi del fuoco escluderebbero quindi la matrice dolosa. Le fiamme avrebbero da prima volta la tonale, successivamente si sarebbero propagati sulle altre parcheggiate nel piazzale della villa di Via Toppole. Le tre auto sono intestate a tre persone dello stesso nucleo familiare, immobile di proprietà di un imprenditore conciario, ora in pensione. Il fuoco, come vediamo dalle immagini, ha anerito una parete dell'edificio. Providenziale l'intervento dei vigili del fuoco intervenuti sul posto con due squadre, i caschi rossi sono riusciti a evitare guai peggiori, mettendo in sicurezza l'area interessata da rogo. I carabinieri tengono comunque viva l'indagine, l'area Solofrana serinese negli ultimi mesi. È stato spesso bersaglio di raid incendiari. Nel caso di Via Toppole, però, non ci sarebbero indizi riconducibili a un'origine dolosa. Una notte comunque di paura e tensione per i condomini, i testimoni del vasto incendio. Grazie. 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 Grazie.